Ancora una decina di giorni di riposo prima che la fortitudo riprenda tutte le sue attività. Periodo ufficialmente di relax un po' per tutti, anche se sotto traccia. Il lavoro della società non si arresta nemmeno in queste ore e procede parallelamente tra l'attesa per il tradizionale bagno di folle, in occasione del raduno della prima squadra al Paladozza, e quella per l'ufficializzazione del nuovo marchio che andrà a rimpiazzare contatto in veste di sponsor principale. Quanto al roster, che già così sembra più che competitivo, il mancato arrivo di Cusina si è evidenziato il desiderio del club di volersi rinforzare, o meglio completare, nel reparto dei lunghi, e ha di conseguenza palesato quanto sia ingente il tesoretto che la fortitudo potrà utilizzare nel corso della stagione per inseguire lo stesso traguardo che prima Brescia, rinforzatasi nel mese di febbraio con Moss, poi la Virtus, che ha fatto altrettanto con Gentile nell'ultimo campionato, sono riuscite a tagliare vittoriose. Difficile il percorso che porta Burns, resta qualche voce legata al possibile arrivo di Cerelle in prestito da Milano, ma non tutti in fortitudo, sembrano pensare allo stesso modo sull'utilità che avrebbe l'ingaggio del 31enne nativo di Baia Blanca. Non sembrano esserci più dubbi invece su quello che sarà il nuovo main sponsor bianco blu che a breve rimpiazzerà contatto, marchio che resterà comunque vicino alla fortitudo anche nella prossima stagione. A meno di ribaltoni al momento impronosticabili, sarà Consult Invest a dare il nome alla prima squadra, un'azienda che punta fortemente sul basket, essendo stata anche main sponsor di monta a destinare una cifra importante alla fortitudo con un ruolo di primo piano, non limitato alla sola sponsorizzazione, ma finalizzato alla realizzazione anche di altre iniziative ancora in fase di studio.